Ben ritrovati a tutti, sono MrBeat1991, oggi continuerò il gioco Aiden & Dangerous Ce l'avevamo lasciati all'inizio della seconda campagna che andiamo a fare La missione si chiama Missione Coltello Spezzato, siamo in una Jugoslavia Qua dovete scegliere come all'inizio della prima campagna i soldati, qua è già fatto Ok qua siamo già a posto, vediamo gli obiettivi La diga di Gelesna Vrata è un punto nevralgico per il traffico della marina mercantile sul Danubio Come risulta dallo spiegamento di guardie Oltre a una guarnigione permanente presso la diga ci sono anche dei custodi alle entrate Sì diciamo che in questa mappa ci sono parecchi soldati Il punto sulla diga è sorvegliato da un carro armato E anche da un carro armato Inoltre ci saranno sicuramente anche dei soldati all'interno addetti alle normali operazioni di allestimento La missione inizia qui al calar della notte Quindi noi dobbiamo far saltare la diga Dobbiamo eliminare il carro armato perché il punto in cui dobbiamo piazzare gli esplosivi rientra nel suo raggio d'azione Distruggiamo la diga piazzando qui gli esplosivi Concludiamo la missione sulla sponda sinistra del fiume Dove c'è un segnale che porto le montagne rumene Può sembrare facile la missione In realtà non è così semplice come si pensa Ok Abbiamo fatto in automatico l'equipaggiamento Però noi ne aggiungiamo qualcuno in più Noi mettiamo anche una pistola Al cecchino Almeno quello Ok Ok Partiamo subito Verremo paracadutati Ahia mi hanno abbattuto Mi hanno abbattuto Cazzo Vediamo se ce la facciamo A essere paracadutati O Penso di sì No Ah sì Uno Due Tre Tre Ho visto Ho visto solo Ah quattro adesso Cos'è che è successo? Vediamo un po' Ah Male 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 Siamo in una Posizione Cioè siamo In una mappa che non conosciamo Quindi noi Dobbiamo andare Dobbiamo radunare le nostre forze Qua cominciamo subito con Due nemici Allora Vediamo un po' Il da farsi Te Chi sei? Ok Te sto andando lì Qua ci sono i nemici Ok Mi hanno visto i nemici Meglio scappare Da qua Spara 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 Ok Ok Salviamo Guardatevi qua Di salvare parecchio Mi stanno uccidendo il cecchino Mi hanno ucciso il cecchino Carichiamo Schiacciamo il tre Tre Scappa Ok Siamo nella cacca perché No Scappa 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 Metiti qua Ok Diciamo che te sei Un po' nei guai Vediamo di Andare con questo Aia Sono messo male anche con questo Perché Lui Qua deve Ok Lui per poter sparare Deve per forza Accesciarsi per terra Quindi Dobbiamo essere veloci E non ci dobbiamo far vedere Caspita Mi hanno ucciso il cecchino Mannaggia La miseria Ah Due sole cose Oh Si spara bene Ma forza Ok Salviamo Il cecchino Abbiamo fatto bene Ora vediamo se Spostandoci Allora Ah Qua noi dobbiamo andare Quindi no Non dobbiamo spostare lì il cecchino Ma dobbiamo invece Andare avanti Perché è stupido Sarebbe stupido Andarlo indietro Ok Dovrà attraversare la foresta Muoviamoci Qua sono da solo Dov'è l'altro Mio soldato Dov'è Mi sto allontanando Da lui Perché in due si muovono Chi è che si sta muovendo No Allora Uh è questo Ma che caspita stai facendo te Ehi seguitemi Ecco Questo si stava divertendo Ok Possiamo avanzare Dai dai Di qua non posso andare Eta E come c'è arrivo dall'altra parte Eh Però anch'io Che vado dalla parte opposta Che vado alla fine della mappa Dobbiamo stare attenti Si deve stare attenti Alle strade Perché Sono Ben sorvegliate Purtroppo E poi ci sono ovviamente Le truppe nei boschi Come avete visto Il problema rimane che Eh Non abbiamo fatto un briefing Della missione Non sappiamo cosa ci aspetta Di qua Giusto? No Ma andiamo avanti Allora Fa vedere Spostiamo Spostati qua Andate voi direttamente Però ti tengo Sott'occhio Prima che venite uccisi Ok Intanto Ci siamo Salviamo Vabbè Sappiamo dove è che dobbiamo andare Da sempre attenzione Perché i nemici Purtroppo in questo gioco Vengono visualizzati Un po' Tardi E forse Ecco Siamo arrivati Siamo arrivati A destinazione Mamma mia che raffreddore Un attimo Ecco Sono raffreddato Dove far paura Allora Noi siamo qui Dice il laghetto E noi Costeggiamo La montagna E qua dovremo trovare Il resto del gruppo Giusto? Si o si? No Sono andato Troppo avanti Vabbè Aia A chi è che stavi? A chi è che stavi sparando? Maledizione Ecco qua Aha Morto Però ne arriva un altro Si Cioè Cioè Guardate Da dove Mi sta sparando Ok Però stavolta Ho stato ucciso anch'io Ok salviamo Quello era un posto di guardia Ok Possiamo Procedere Ed andare avanti Andiamo 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 Anche lì C'è un posto di guardia Per il programma Ok Ce ne sono lì un paio ancora Spariamoli Morto? No Un altro Ora dovrebbero essere morti Abbiamo tutti i soldati Benissimo Possiamo andare Avanti Visto che siamo vicini Al punto di fuga Ok Uno Due Ora Chiamiamo Il terzo Fermi tutti Ehi seguitemi Dov'è che è l'altro? Eccolo qua Stop Seguitemi Non si vedeva Non lo vedevo Ricarichiamo Va bene Andiamo 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 Questa Questa missione è stata abbastanza veloce Nonostante tutto Dov'è che stiamo No Stiamo tornando Stiamo tornando indietro No No È giusto Siamo dietro Qua Ok Dov'è che adesso Ma dove stai andando te? E se ne va Sì quello stava Stava Ah Ma guarda a te Guarda a te Questo dove Caspita è arrivato Fermi tutti Ok Muoviamoci Ok Giusto di qua Sì Ma guarda a te Pratico se lasciate Una vecchia impostazione Una cancellata Lui arriva Al punto dove Volete lasciarlo Però poi torna Cioè va Al primo obiettivo A quello più vecchio Che è stupido È stupida la cosa Ok Muoviamoci Ok Ci siamo tutti? Ma dove sono? Ma 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 come Caspita si fa A giocare così Questi sono stupidi Come che Ok Seguimi Vediamo se ce la facciamo Adesso eh Vediamo se ce la facciamo Vedete che è bello Quando corre Quando corre C'è la testa Rimane quasi ferma Andiamo a prendere Anche l'altro Ok Dovremmo essere arrivati A destinazione Vediamo se ci sono soldati Soldati No Non si vedono soldati Ok Salviamo E continuiamo Andiamo Andiamo Vediamo cosa succede Cosa Cosa troviamo Dove sono Gli altri Oh Fa diventare pazzo Mi fa diventare No Ma io voglio selezionare Ok Ok Spostati Vai qua Sperando che ora Ce la facciano Dai 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 che ce la facciamo Ok Ok Sì No Sta fermo Grazie Sta fermo Sta fermo Ok Abbiamo finito la missione Missione conclusa con successo Nemici uccisi 9 Ok Ok La prima missione È andata Diciamo a farsi Fottere Perché Dovevamo capitare Qua Distruggere il carro armato Far saltare la diga Ma non è stato così Quindi ci vediamo Per la seconda missione Qui è Mr.Bt1991 Il gioco è Ider and Dangerous Al prossimo video Ciao ragazzi